Arte e poesia. Un successo la presentazione del libro Fogli Volanti, tenutasi nella biblioteca domese Gianfranco Contini. Le artiste Margherita Cassani e Danila Denti, in dialogo con Chiara Pagani, hanno presentato gli splendidi lavori in cui hanno interpretato graficamente i testi di alcune poesie. Le tavole sono state realizzate con le tecniche della stampa d'arte. Le due artiste, che collaborano dal 2010, hanno svelato il percorso creativo. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.